Onorato che il nostro direttore della direzione regionale della Campania dei Vigili del Fuoco, Dottor Ingegnere Emanuele Franculli sta qui con noi. Onorato io di stare qui con voi, era la benemerita Associazione dei Vigili del Fuoco, al quale non sono mai sufficienti tutti i ringraziamenti che noi corgiamo per l'avvicinanza che ci offre sempre in ogni circostanza, compreso le emergenze. Giusto, perché comunque si fa sia verso l'emergenza che è la prima cosa che si dà ai cittadini. E anche in fase di prevenzione, molto bene. Grazie. Buona giornata a tutti.